allora ragazzi ma questa è la soluzione dell'esercizio 1 della serie 50 dunque abbiamo la riga del tempo abbiamo fatto sei versamenti in banca di mille franchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 l'ultimo di essi 4 anni fa quindi passano 1, 2, 3 e 4 anni qua e oggi sappiamo che il tasso è stato del 6% fino a 6 anni fa e dopo in seguito è del 3% annuo la domanda è quanti soldi ho in banca oggi? allora per prima cosa devo vedere quanti soldi ho in banca 4 anni fa esattamente qua lo posso calcolare basta calcolare S se calcolo S scopro quanto vale la mia rendita al momento del pagamento dell'ultima rata cioè qua calcolo S faccio 1000 per 1,06 elevato a 6 sono 6 versamenti meno 1 diviso 0,06 viene fuori il valore S scusate non l'ho fatto la prossima volta lo preparo prima 0,06 elevato a 6 meno 1 uguale diviso 0,06 per 1000 viene fuori 6.975 e 31 vuol dire che qui in questo preciso momento qui la rendita vale 6.975 franchi e 31 ora negli altri 4 anni che passano da qui a qui io non verso più soldi in banca però ci sono questi S, questi 6.975 franchi che stanno comunque in banca 4 anni al 3% ora si tratta di un unico capitale quindi non calcolo più S ma M faccio 6.975 franchi e 31 il capitale che avevo accumulato qua l'equivalente di questi 6.000 franchi più gli interessi cioè i soldi che avevo in banca in questo preciso momento che stanno in banca al 3% per 4 anni e calcolo quanto mi esce il montante finale mi esce 7.850 e 80 ecco mi sembra abbastanza semplice avete capito?